Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione e lo Spirito Santo, si chiama tutti voi. Amore di Dio Padre, del Figlio e del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione e lo Spirito Santo, e supplico la Beata Signore Vergine Maria, gli Angeli, i Santi e voi, i Fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio ripotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà. Signore Mummy Dio Padre, del Signore 어머anni e lo Spirito Santo, ca Qurza Suudi. Grazie a tutti.